In questo video andremo a vedere un problema che è legato al pixel di Facebook con l'installazione attraverso Google Tag Manager. Il problema è relativo alle statistiche del pixel di Facebook dove appare un dominio abbastanza strano, abbastanza curioso, ovvero gtm-msr.appspot.com. Questo si verifica andando appunto sia nell'analisi del pixel di Facebook, quindi andando proprio all'interno del pixel di Facebook e andando a selezionare i valori dei domini, andiamo a trovare in questa voce il dominio gtm-msr.appspot.com. Adesso qui non è presente perché ho già attuato la soluzione e quindi non è più rilevato il dominio. In pratica cosa succede? Che attraverso il pixel di Facebook, quindi quando andiamo a installare il pixel di Facebook capita delle volte che si attiva la parte relativa al no script. Quindi cosa succede? Succede che per qualche motivo il pixel di Facebook associa al dominio di gtm-msr.appspot.com diciamo l'azione dell'it o dell'evento che viene associato attraverso il pixel di Facebook. Come possiamo fare per non far apparire quindi questo dominio all'interno del mio pixel? Beh, il barbatrucco è abbastanza semplice. Vediamo di capire cosa è questo gtm-msr.appspot.com. Beh, innanzitutto è ovviamente un dominio che appartiene a Google, lo si verifica tranquillamente attraverso un UIS. Tra l'altro lo stesso dominio ha degli altri dominini di terzo livello come per esempio i tool, quindi gli strumenti dedicati agli sviluppatori. E quindi cosa succede? Succede che questo dominio viene gestito probabilmente da o dei bot che fanno eseguire questo, il tag, uno script, oppure diciamo viene in qualche modo scatenato e il pixel ragiona in modo un po' anomale rispetto al suo funzionamento. se andiamo a verificare esattamente il valore infatti notiamo che solitamente appare più volte nel stesso secondo, quindi tipicamente è 3-4 volte e viene associato in modo un po' casuale, quindi non c'è una conseguenza a un hit o a proprio uno scatenare l'evento relativo al pixel di Facebook e la cosa curiosa è che abbiamo anche ovviamente l'ID del nostro contenitore di Google Tag Manager, quindi siamo sicuri che è sicuramente legato al nostro Google Tag Manager. E questo ovviamente lo possiamo vedere anche attraverso il Facebook Analytics, quindi non solo attraverso il pixel ma anche attraverso diciamo il valore relativo all'analisi, quindi la nuova funzione di Analytics di Facebook. Quindi in definitiva abbiamo questi valori che tra l'altro ovviamente dà delle problematiche sulle statistiche di Facebook. Quindi cosa possiamo fare? Io ho trovato questa soluzione, l'ho implementata, ho aspettato un po' di giorni per vedere se effettivamente il problema fosse risolto e effettivamente così è stato. Il trucco è semplice, all'interno dello script che andiamo a inserire attraverso Google Tag Manager inseriamo un if, un if JavaScript, praticamente all'interno del codice che andremo a inserire di Facebook inseriamo questo if iniziale. Questo if non fa altro che verificare se l'url attuale contiene il dominio appspot.com, quindi se all'interno dell'url a cui viene fatta la richiesta, se contiene il dominio appspot.com, allora non esegue lo script di Facebook. Io ho inserito anche un'altra condizione, quindi la condizione viene associata a un referral di tipo appspot.com, l'ho inserita giusto per, diciamo, maggior sicurezza, ma la possiamo tranquillamente anche togliere, cioè basterebbe anche la prima. Quindi morale della favola, quello che dobbiamo fare è andare all'interno del nostro Google Tag Manager e inserire la configurazione del tag. Per farlo basta andare semplicemente sul setup del pixel di Facebook, quindi sono all'interno del pixel. posso dirgli di inserire attraverso Google Tag Manager, lo facciamo, potremmo farlo anche manuale, perché altrimenti ci chiede ovviamente l'autorizzazione sull'account. Prendiamo il pixel di Facebook, andiamo sul nostro Google Tag Manager, creiamo un nuovo tag fb pixel monitoraggio, andiamo a scegliere quindi il nostro HTML personalizzato, andiamo a inserire lo script di Facebook e ci aggiungiamo l'if iniziale, aggiungiamo questa parte di codice immediatamente dopo lo script, attenzione alle parentesi, e in questa maniera siamo sicuri che il nostro tag non viene attivato. Lo mettiamo su tutte le pagine, non viene attivato ovviamente nel caso in cui il dominio di richiesta sia appspot.com. Salviamo e adesso non lo abbiamo, ovviamente pubblichiamo e il problema del dominio di riferimento gtm-msr.appspot.com viene risolto. Voglio condividere con te una piccola anteprima, la seconda edizione del mio libro, completamente rinnovata, è quasi pronta, e se ti fa piacere o semplicemente sei curioso, lasciami la tua mail qui sotto e ti manderò delle anticipazioni ancora segrete. A presto e come sempre, buon tag! Grazie a tutti! Grazie a tutti!